Ultimo consiglio comunale del 2019 per il comune di Agropoli previsto per l'11 dicembre alle ore 10 con ben 26 interrogazioni dei consiglieri di minoranza. Si parte da Agostino Abate sulla recente approvazione dello statuto unionale, sul piano urbano del traffico, sul PUC, sull'applicazione del regolamento de Ors, sulle varie commissioni, sulla dotazione degli standards urbanistici relativi all'istruzione, sul parcheggio di via Marco Polo, sull'attuale configurazione del golfo Lido Azzurro, sulle varie commissioni 2, sulla nota della provincia di Salerno riferita alla realizzazione di un'isola ecologica in località Malagenia. Si passerà poi all'interrogazione del consigliere Natalino Consolato Caccamo, all'assessore alla vivibilità edifici e strutture comunali su edificio e struttura per commissariato di pubblica sicurezza, su impianto di depurazione comunale, su trasporto pubblico scuola bus, su menze scolastiche, su verifiche sismiche edifici comunali, su impianti sportivi, su partenariato con il comune di Capaccio Pestum, su gestione economica fitti, su immobili occupati abusivamente e su daspo urbano. E ancora le interrogazioni del consigliere Giuseppina Botticchio al sindaco, sul personale dell'ufficio protocollo del comune di Agropoli, sul personale delle menze scolastiche, sulle società di riscossione dei tributi, sull'autovelox, sull'ospedale di Agropoli e sul settembre culturale. Infine si passerà all'approvazione dei verbali della seduta precedente, al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267-2000 per il pagamento di indenità di esproprio e l'ultimo punto riguarderà l'istituzione commissione permanente del controllo e garanzia in tema di sicurezza. Qualora tale seduta dovesse andare deserta, il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione presso l'aula consigliare del comune di Agropoli il giorno 13 dicembre alle ore 10 per discutere lo stesso ordine del giorno.